Ciao a tutti, bentornati, Maurizio Parenzan, qui si parla di carriera, lavoro e finanza personale. Come sapete il mio obiettivo è condividere 25 più anni di esperienza nel mondo corporate per aiutare il più possibile chi deve costruire, cambiare o migliorare la propria carriera. Intanto grazie a chi mi ha dato delle segnalazioni per domande da affrontare durante la live. Purtroppo, Samuele, quelle che hai segnato sono sparite. Adesso vedo le due domande di Alberto, per cui troviamo un attimo un modo per recuperarle. Allora, vediamo anche se qui in chat appaiono. Ecco qua, perfetto. Fatemi sempre sapere se audio-video ci siamo, ma penso che ormai la combo stia funzionando bene. Sto usando questo software che si chiama Melon e a quanto pare funziona benissimo per ora. È un'alternativa a StreamYard, per cui per chi segue un attimo le varie soluzioni software per i canali, sembra che abbia un piano molto più interessante a livello di opzioni a parità di prezzo. Ok? Allora, anche oggi usiamo la solita formula, cioè ci sono un po' di domande, un po' di argomenti che volevo affrontare in base alle chiacchierate che ci facciamo anche sul canale Telegram, dando però fin quando possibile la precedenza a chi scrive delle domande nella chat della live, perché insomma così siamo un attimo più dinamici. Giusto come aggiornamenti personali sono stato per tre giorni a Barcellona, avevamo un leadership team meeting molto interessante, chi mi segue su LinkedIn c'è anche la foto del gruppo che ho incontrato. È stato molto bello perché in realtà è stata la prima trasferta di gruppo da anni. C'è stato questo bell'incontro con la mia azienda a Barcellona, degli uffici abbastanza importanti, quindi c'è stata una bella opportunità, persone che sono venute dagli Stati Uniti, in giro per l'Europa e abbiamo fatto queste giornate belle intense. Ed è stato molto utile, sapete, per comunque incontrare persone, c'erano i colleghi che venivano dall'India, quindi incontrare persone con cui magari in questi anni abbiamo lavorato soltanto virtualmente, più conoscere per la prima volta direttamente persone che avevo conosciuto soltanto in riunioni su Teams. Esperienza meravigliosa, poi potete immaginare insomma Barcellona è una città che si fa voler bene comunque anche quando ci si va per lavoro. Quindi ottima esperienza, poi sono uscite anche delle cose di cui magari parlerò più avanti relative alla mia situazione e posizione, quindi sempre piacevole come attività. Allora, intanto ciao Alberto e ciao Simone. Allora, iniziamo dalle domande di Alberto. Alberto in realtà mi aveva posto questa domanda anche nel, non mi ricordo se nell'altra live o all'interno del gruppo Telegram. Allora, lui dice, cos'è la divisione strategi e di che cosa si occupa? E soprattutto quali sono le possibilità, le possibili strade per entrarci? Da dove viene questa domanda? Ogni tanto vi parlo, no? Di quali sono a mio avviso delle opportunità di carriera, delle soluzioni interessanti e in particolare quando si parla della logica del generalista specialista ho spesso fatto riferimento a delle posizioni a mio avviso molto utili per acquisire competenze nel business. Quindi parlo spesso di procurement, operation, supply chain, via dicendo. E ho fatto anche riferimento a strategy. Allora, di che cosa si tratta? Ovviamente stiamo parlando di aziende grandi, strutturate, che hanno la possibilità di spacchettare i team e le responsabilità. In un'azienda come la mia ci sono delle macro aree di business, quindi diciamo c'è la parte core business con la parte ricerca, marketing e tutto, c'è la parte produzione, c'è la parte vendite, la parte servizi, support function e via dicendo. Ora, dovete pensare sempre al lato business, cioè una grande corporate, come anche una startup, come comunque qualsiasi azienda, ha una sua strategia pluriennale, cioè quello che noi vediamo come operation, execution di progetti e tutto, fanno parte di una big picture. Cioè, quando voi parlate di un project manager, il project manager è qualcuno che coordina, non comanda, attenzione perché spesso c'è una confusione rispetto a questo, qualcuno che coordina e assicura che siano rispettati tempi, costi e qualità in uno specifico progetto, che può essere lo sviluppo di un software se siete nel settore IT, o può essere la costruzione di un facility, oppure la produzione di una nuova linea per l'azienda e via dicendo. Più progetti possono far parte di un programma, magari c'è un programma di espansione di una certa tecnologia o un programma di sviluppo di un certo mercato e che all'interno ha vari progetti, allora si passa la parte programma. Però tutto questo perché avviene? Perché fa parte di un qualcosa di più strategico, cioè un piano almeno quinquennale per l'azienda. E quindi che succede? Pensate alla parte di merge and acquisition, quindi quando si cercano aziende, oppure ci sono delle aziende che si uniscono per creare qualcosa con una massa più importante, oppure una grande azienda ne acquisisce di più piccole perché magari hanno un know-how specifico, hanno sviluppato una tecnologia e casi di questo genere, beh, tutte queste cose fanno parte di una vera e propria strategia aziendale. Così come per la nostra carriera l'approccio, quello che io consiglio, come nel mio videocorso, è l'approccio strategico, no? Qualunque cosa fate oggi deve far parte di una visione più ampia, lo stesso per le aziende. Le aziende hanno una strategia di business. E chi si occupa di questa strategia? In alcune aziende, in molte aziende, soprattutto quelle grandi, ci sono dei team dedicati che si occupano proprio di strategia. Quindi, strategi e via dicendo. Ora, ogni azienda può avere questo settore strutturato o una centrale con persone dedicate per i vari settori del business, oppure ogni settore del business ha dei suoi team dedicati, qualunque sia la forma, però a cosa dovete pensare? Dovete pensare a persone che ragionano non sul tecnicismo, ma sulla direzione del business, dove il business vuole andare, no? Quindi, pensate quando vedete i report annuali delle aziende, lì si parla della mission, della vision, degli obiettivi a dieci anni, vent'anni. Pensate soltanto agli obiettivi tipicamente ambientali che ci si dava per il 2030 e quando ci se li dava nel 2015 sembravano chissà quanto lontani, adesso sono molto molto più vicini. Ecco, la divisione strategi è una divisione che si occupa di capire quali sono le direzioni da intraprendere, fare delle valutazioni dove investire, cosa sacrificare, a cosa dare priorità e quali sono magari i programmi da implementare. E poi ci saranno delle divisioni più operative che si occupano di andare, metterci un prezzo, capire e via dicendo. Quindi la parte strategi che spesso fa anche riferimento a consulenti esterni è proprio una divisione che si occupa di queste cose. E all'interno della divisione strategi, come in tutte le divisioni, ricordatevi che ci sono vari livelli di seniority, cioè non è che io posso accedere a strategi soltanto se ho 30 anni di esperienza. Ovvio, non è che accedo a strategi e definisco da neolaureato la strategia della divisione o del business. Però magari da junior utilizzo le mie competenze di data analyst, matematiche o via dicendo, vengo messo lì per crescere e vedo delle cose a livello più globale, più strategico. Quindi per me è un settore molto molto interessante, mi piace molto e sia che sia strutturato, sia che non lo sia, è una cosa a cui io vi consiglio sempre di avvicinarvi, che è un po' quello di cui vi parlo quando vi parlo di capite sempre qual è il vostro ruolo all'interno del business. E il business ha una parte strategica e una parte tattica, ovviamente. La parte tattica è più l'execution, la parte strategica più di 5 anni, anche 10-15, è quella proprio della big picture. Spero Alberto sia chiara come risposta, tu dici appunto studierai finance, ma finance fa parte della parte strategica e attenzione, cioè non sono cose separate. La parte strategica ovviamente, siccome parliamo di business, quello che succede è che gli input e le maniere in cui si rappresentano le scelte strategiche, le opzioni strategiche, sono sempre trasferite, scusatemi, tradotte in numeri. Quando voi fate, per esempio per un progetto, l'appropriation request, cioè un capital approval, quindi prenotate dei soldi, avete un progetto da 5 milioni di dollari, perché si è approvato contro gli altri 20 progetti che sono in competizione per il budget a disposizione, voi dovete fare tutta quanta, dovete presentare il vostro business case, no? Quando parlavamo con Anna Reich delle skill, si parlava proprio del difendere il proprio business case. Quindi questa mia cosa, che è tecnicamente, ingegneristicamente o a livello di marketing o software, significa ABC, ma a livello business che cosa significa? Quindi ci sono proprio dei moduli che si riempiono, la maggior parte sono preparati da quelli di finance, perché si calcola il net present value, bisogna calcolare tutti quanti gli ammortamenti, book value, ci sono tantissime considerazioni che si fanno a livello finanziario, quindi anche, anzi, soprattutto finance è uno degli elementi più importanti per i team di strategia. Sono aspetti molto interessanti e fanno parte di quel mondo che a me piace molto quando si parla del mondo corporate. Ok? Quindi questa era la prima risposta alla domanda di Alberto. Poi vedo Simone, Simolli, Andrea, ciao a tutti, Marco. Allora, vediamo un attimo. Questa domanda di Simone dice Startup, come scegliere quella che farà il boom? Inizierà da una big corporation per poi muoversi in startup? Ha senso? Allora, Simone, se ci fosse la possibilità di sapere a monte quale startup farà il boom, quanto sarei ricco adesso? O probabilmente quanto lo sarebbero tanti altri se ci fosse un metodo unico? Allora, grazie perché mi dai l'occasione di riprendere alcuni punti che avevo già discusso in altri video, per i quali però, secondo me, c'è una cosa molto importante. Io vedo sempre questa dicotomia nell'approccio, no? Cioè, startup corporate, dove spesso, soprattutto su internet, proprio perché su YouTube ci sono molti che sono collegati al mondo IT e via dicendo, c'è una grande tendenza a startup, sono quelli fighi, quelli che vogliono avere un impatto nel mondo, sto famoso impatto che sanno che c'hanno è, mentre quelli che vanno nel mondo corporate, nelle big companies o fanno un lavoro a dipendente normale, sono quelli un po' più spenti, più grigi e tutto. Questo ovviamente è una cavolata totale, follia totale, è soltanto un fatto di preferenze a livello lavorativo, a livello formativo e tutto. Stavo ascoltando uno degli ultimi podcast di Office of Cards, no? Il podcast di Davide Cervellin con cui ho fatto anche diversi video. Se non lo seguite, seguite assolutamente il suo canale, in particolare il suo podcast. E stava parlando con questa persona e c'era proprio il discorso del quando lavori in una startup, vedi più cose, vedi più immediatamente, vedi più rapidamente l'impatto, hai un contatto più immediato con le conseguenze del tuo business e via dicendo. Questa è una cosa su cui non sono d'accordo, sinceramente, e vi spiego perché. La grande azienda, è vero che entri e sei una parte più piccola, ma sei una parte piccola di un qualcosa di grande. E quindi quando cresci, con la seniority, hai più visibilità di tantissime implicazioni a livello business e via dicendo. Quindi è un impatto, cioè se sei in un progetto che ha impatto su 20 milioni di clienti, ma venimi a dire che è un piccolo impatto. Dici, ma io nell'azienda piccola vedo tutto. Sì, ma perché è di meno? Cioè, tu vuoi vedere tutto quanto di un singolo mattoncino Lego oppure uno strato alla volta di un castello Lego? Scusate la banalità dell'esempio, ma chiariamoci, no? Cioè, quando dopo 5-10 anni inizi a vedere veramente il business e capisci quello che sta succedendo, in una grande azienda hai molta, molta più roba che hai visto. nella piccola startup e via dicendo, parliamo perché non è detto che vada bene, tantissime hanno male, hanno problematiche e via dicendo. E ti dico questo, Simone, perché avevo fatto un video in cui parlavano di, c'erano questi video molto clickbait su le persone scappano dalle grandi corporate perché A, B, C, D, questi sono i problemi. e quindi c'è molto la percezione in giro del e quindi diametralmente opposta alla posizione delle startup dove tutti hanno queste scrivanie a forma di unicorno, sono tutti felici, tutti motivati, tutti sentono l'impatto, tutti stanno realizzando i loro sogni e via dicendo. e a fine video avevo messo forse un po' troppo breve che se fate la stessa identica ricerca troverete che le grandi aziende hanno il problema del turnover, quindi persone che se ne vanno, fate le ricerche, le startup hanno lo stesso identico problema perché ci sono gli stessi identici problemi anche lì di persone che se ne vanno, che non sono motivate, che il lavoro non è figo come si credeva e via dicendo. Io personalmente, come sono io, consiglio sempre di iniziare da una big corporate anche perché se il tuo obiettivo dovesse essere quello imprenditoriale, una cosa è essere un ex big name che inizia un'attività. Guardate Mr. Rip, no? E lui è un ex Googler, cioè solo quello è un badge di un valore infinito per tantissimi settori. E un'altra è essere quello che ha fatto tanta esperienza nell'azienda di cui nessuno ha mai sentito parlare e poi va a fare qualcos'altro. A mio avviso questo è un valore non banale. Anche perché poi, se invece dovesse decidere di manere o di spostarvi nella grande azienda, non è banale, non è banale fare il salto dal nessuno ti conosce al grande nome dopo dieci anni. Perché le grandi aziende hanno delle dinamiche particolari, al di là del topic del lavoro, però ci sono proprio delle dinamiche, dei modi di lavorare e tutto. Allora, se tu sei stato in una grande azienda, un nome che riconosco, un mio competitor o comunque qualcosa di paragonabile, so che sai come lavorare in certe cose, dallo stakeholders management alla gestione della comunicazione, le dinamiche anche dello stesso finance, gestione personale e via dicendo. Quando vieni proprio da un nome che nessuno ti conosce, il tuo competitor ai colloqui che viene da un nome importante, molto probabilmente avrà un vantaggio competitivo. Per cui, Simone, è molto personale confrontati anche con persone che fanno scelte diverse, però io personalmente consiglierei la big corporate e poi da lì se vuoi spostarti, fare qualcos'altro con tutta quell'esperienza, quel network e quella credibilità alle spalle. Ok? Allora, bella domanda di Simoli Show. Quanto costa fare un'esperienza all'estero come un Erasmus per una corporate? Conta così tanti come dicono anche in stipendi, ruoli o banalmente credibilità e fidabilità per una multinazionale? Sì, l'esperienza all'estero è fondamentale non tanto per la corporate ma per te. Cioè, andare fuori, metterti in gioco a livello linguistico, capire che le persone lavorano diversamente, studiano diversamente, ne parlavamo anche con Raffaele Gaito, cioè, capire che c'è gente che vive fregandosene altamente delle tue abitudini, della tua lingua, della tua religione, della tua alimentazione, vivono in maniera completamente diversa, confrontarsi con persone che sono lì magari fuori sede come te, con modi di studiare diversi, ti apre completamente la testa, ti apre la mente, ti dà un network maggiore, ti dà maggiori competenze linguistiche e molto probabilmente sarà anche un trigger per una serie di altre cose, attività e via dicendo, per cui è un'esperienza fondamentale dalla quale molti non tornano in positivo, non che succede qualcosa, cioè, io vado fuori, inizio a vedere come si lavora e vive fuori o, ma sai che, me la finisco lì la laurea oppure torno il tempo di laurearmi e scappo subito fuori perché nel frattempo ho fatto network con aziende e via dicendo, per cui sì, è un'esperienza fondamentale ma soprattutto per te, cioè, sei tu che diventi una persona che ha un modo di rapportarsi di conoscenze di competenze linguistiche e via dicendo che ti rende più appetibile non soltanto per l'azienda ma proprio in generale per il mondo del lavoro. Per questo per me è un punto molto 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 importante da considerare. Ok? Allora, domanda di Andrea cosa ne pensi di un internship come Business Development da Amazon a Milano? Ho sentito parlare e parei discordi su queste realtà. Amazon come tutte le grandi aziende è un'azienda che ha sostenitori delatori e via dicendo. Qualche mese fa ho fatto un video nel quale mi sono divertito molto a fare quel video perché prendevo di nuovo uno di questi video clickbait e tutto dove si attaccava Google quello nello specifico era su Google e mi divertiva moltissimo perché erano tutte cose che sono in realtà i lati positivi di Google e qua venivano letti in maniera opposta. Ora Business Developer nell'azienda che ha avuto il più grande e sta avendo ancora il più grande Business Development al mondo uno dei tre nomi probabilmente quattro nomi probabilmente più riconosciuti al mondo Amazon Google Facebook Apple Microsoft no? cioè ma di che parliamo? E anche lì occhio chi dà il parere discordante chi è che ha fatto che ha cioè lo dà perché c'è andato il lagnolo imbalzato oppure perché ricordatevi che alle persone piace molto lamentarsi ok? cioè se io potessi entrare da junior in un colosso del genere non ci penserei due volte ma soprattutto perché stiamo parlando di un colosso sano cioè un'azienda che è cresciuta per le capacità degli standard altissimi hanno sviluppato tantissime cose ci sono già tutte quante le interviste in cui parlano del prossimo lancio che ci sarà dell'intelligenza artificiale da parte di Amazon che mira ad avere l'innominabile Alexa perché se no mi parte come soluzione unica per l'intelligenza artificiale no? cioè io non ci penserei due volte sinceramente è un grande nome è una grande opportunità nel curriculum per cui lo considererei molto molto seriamente come come opportunità ok? eccoci qua allora ciao Marco Marco mi chiede Marco mi sa che tu me l'hai chiesto più volte questa cosa dell'energy manager ti chiedo scusa non avevo avuto possibilità di parlarne lui dice quali sono i lavori junior che permettono di impostare un percorso di carriera da energy manager allora per chi non lo sapesse che cos'è l'energy manager è una figura che è stata costruita negli anni fine anni 90 in Italia c'è si chiama FIRE come Financial Defense Early ma in realtà è per l'usorazione dell'energia no? ora non mi ricordo più l'acronimo scusatemi un attimo di un'amnesia però fondamentalmente è l'ente che si occupa di creare standard di lavorare con le autorità e tutto quanto per l'usorazione dell'energia che succede che da tanti anni tutte le aziende che consumano più di un tot quantitativo di energia devono avere un ruolo di un energy manager cioè una persona che si occupa di efficienza energetica tanti anni fa era le aziende si tappavano il naso prendevano qualcuno dalla divisione engineering gli mettevano il doppio cappello ecco tu sei l'energy manager i che palle tocca a me perché queste persone poi erano fare delle reportistiche e via dicendo ora invece è una delle funzioni più importanti le aziende stanno investendo una quantità di soldi in tecnologie di ogni tipo per l'uso razionale dell'energia ovviamente a causa del problema ambientale riscaldamento e via dicendo tutte quante le energie hanno nelle loro reportistiche nei loro obiettivi di corporate responsibility la parte ambientale è una di quelle fondamentali per cui la posizione dell'energy manager oggi è una delle più importanti pensate soltanto l'impatto che ha avuto nei periodi di picchi del costo unitario dell'energia la figura di chi poteva aiutare i progetti di razionalizzazione nell'uso dell'energia quindi utilizzare meno energia per avere lo stesso risultato produttivo ora come iniziare una carriera del genere quella classica a cui si pensa è quella ovviamente dell'ingegnere io ingegnere entro nella divisione engineering e poi devo vedere qual è quella che si occupa di questa parte fondamentalmente avviene per quello che ho visto in due macro anzi in tre macro gruppi il primo è la parte di reportistica quindi persone che gli specialisti che si occupano della parte misurazione perché voi pensate che le aziende hanno macchinari installati negli ultimi 30 anni e quando si dice devo utilizzare meno energia ok come la misuri cioè non pensate che ci sono ogni macchinario c'ha il suo misuratore di energia e via dicenda cioè devi avere hai probabilmente migliaia di data point che nessuno ha mai utilizzato adesso devi trovare un sistema che sia un sistema scada o altro per raccogliere tutti i dati utilizzarli armonizzarli in qualche maniera devono essere certificati perché devono essere dati ufficiali tutto un macello che c'è dietro e poi da questi si dice ok quando faccio un intervento quando sostituisco questo macchinario ottengo questi risultati e quindi c'è tutta la catena no? degli investimenti investimenti nel settore energetico vuol dire che io devo avere dei parametri economici quindi sostituendo questi motori con motori più efficienti risparmio tot ma anche se non risparmiassi tot in dollari però ho una riduzione di energia quindi emissioni di CO2 equivalenti quindi ha un valore ambientale per cui gli devi mettere un dollaro equivalente insomma ci sono tantissimi meccanismi per questo ti consiglio Marco di studiare i report delle aziende dove c'è la parte di corporate responsibility e vedrai che troverai decine di pagine in cui le grandi aziende dicono come affrontare questa parte ecco io ti consiglio se sei interessato a questa parte dell'uso dell'azione dell'energia energie rinnovabili e via dicendo fai delle ricerche su posizioni che sono in quel settore non usando keyword come ingegnere ma metti energy renewable sustainability e troverai che ci sono ruoli che è importante che siano con diverse competenze perché per esempio io posso essere il mago delle valutazioni finanziarie degli investimenti e poi collaboro con l'ingegnere che mi dice qual è il motore migliore perché chi tecnicamente conosce la soluzione non necessariamente è la persona che è capace di valutarne l'impatto ambientale no? quindi indipendentemente da quale sia il job title che ogni azienda mette come opportunità se usi queste keyword troverai diverse diverse soluzioni e in questo periodo credo che il mercato sia abbastanza attivo in questa in questa direzione e quella poi è una cosa che ti dà tantissime opportunità perché appunto è un problema a livello mondiale tutte quante le grandi aziende sono attrezzate in tutto il mondo c'è la stessa problematica quando lavori su una cosa del genere le skill che acquisisci sono trasferibili ovunque perché stesse identiche regole problematiche si applicano in tutto quanto il mondo quindi è veramente un settore molto interessante prova a iniziare a fare ricerche in questa maniera non necessariamente energy manager ma può essere anche per esempio è collegato anche alla parte health and safety no? alcune aziende hanno health and safety and environment messi insieme no? HSE health safety environment messi insieme altre aziende ce le hanno separate e via dicendo quindi usa questo tipo di keyword per cercare delle posizioni ma ti assicuro che io ho visto anche persone che venivano del project management che poi sono entrati in ruoli di questo genere perché appunto erano le persone in grado di valutare i progetti di dare priorità di seguirne l'esecuzione e via dicendo poi il know-how tecnico non è che devi fare tutto tu il know-how tecnico ce l'avrà il tuo collega tecnico verticale oppure il fornitore con competenze più specialistiche è una carriera molto interessante ho lavorato moltissimo con l'energy management per tanto tempo ok allora vediamo un attimo ecco qua qua ci sono altre domande vediamo se mi ero perso qualcosa business amazon ecco qua questo allora Gianluca chiede quando si è assunti diretti in azienda con periodo di prova bisogna farla proprio grossa per fare il periodo di prova o è tanto rischioso quanto uno che ha scadenza di contratto allora il periodo di prova appella almeno per quella che è la mia esperienza sì devi farla grossa per fallire cioè veramente ci deve essere un problema con il fit aziendale con la cultura aziendale o magari nel tuo background avevi sparato cavolate hanno il tempo per fare delle verifiche ma anche viceversa è anche lato tuo però ovviamente tipicamente l'azienda che ha il coltello da parte le manico in questa situazione sì in realtà ti dico potrebbe esserci anche un'altra situazione molto spiacevole può esserci pure una situazione in cui l'azienda per x motivi cambia e non ha più bisogno della quella posizione e se ti capita proprio nei tre o sei mesi del periodo di prova ti è andata molto male però può capitare poi al di là delle logiche da sindacalista ma il contratto dice A, B, C, D è tutto ok però no il periodo di prova tipicamente se fai il tuo lavoro se non c'è niente di molto strano si passa più o meno automaticamente però ci possono essere situazioni in cui non viene non viene confermato ok allora allora Vibev dice ho visto che i manager nelle PA in Italia guadagnano di più che nelle imprese private quasi quasi ok non è il mio settore non lavoro non ho mai lavorato e non ho intenzione di lavorare in una pubblica amministrazione in Italia in realtà ci sono devo dire che negli ultimi anni ho visto tanti ruoli perché sapete che ci sono questi vari progetti fanno i bandi ogni tanto ci sono dei ruoli cioè porca miseria con sorta di stipendi con condizioni davvero interessanti sono carriere diverse ovviamente devi accettare determinate cose per tantissimi è il punto d'arrivo sono felicissimi e cosa ok io personalmente probabilmente avrei molte difficoltà a lavorare in una dinamica di pubblica amministrazione però è un'opzione non si disdegna allora allora ecco ecco questa è una bella domanda Ringo Starkiller dice ciao Morizio hai consigli su come fare network in azienda se sei uno dei pochi in full remote e soprattutto se sei una figura junior sì allora le regole del networking sono le stesse tra l'altro credo di aver fatto anche un video dedicato alla parte del networking in remoto cioè è chiaro che la pausa della macchinetta del caffè sarebbe meglio la chiacchierata così sarebbe meglio però va bene giochiamo con le carte che abbiamo se sei junior e se sei in full remote a parte ricordati sempre di fare networking all'interno dell'azienda ma e soprattutto all'esterno le regole basi sono quelle cioè cerchi intanto di mappare le persone attorno a te quelle con cui direttamente o indirettamente lavorerai partecipi a una riunione ci sono cinque persone che non conosci invita ognuno di loro a una una call un caffè virtuale di mezz'ora in cui vi presentate per conoscersi un attimo chi sei come qual è il tuo lavoro avremo quali che tipo di interazioni avremo come avremo a che fare e via dicendo e magari puoi mettertelo anche periodico ovvio che è molto più piacevole essere dal vivo e una volta al mese andare a farsi un caffè con i colleghi a rotazione andare a pranzo insieme però fai quello che puoi e quindi una conoscenza di questo genere poi pian piano allarghi il cerchio una delle cose che puoi fare sempre è anche lì capendo se c'è qualcosa che interessa una persona in particolare o sfera privata o sfera lavorativa se ce l'hai dagli informazioni del tipo ah ciao guarda so che stai seguendo questo progetto ho trovato questo articolo glielo rigiri un po' quello che si fa anche su LinkedIn il fatto di essere junior è una carta a tuo favore perché? perché? puoi giocarti la carta del voglio capire come funziona l'azienda quindi posso hai anche la carta di poter fare domande banali e tutto però c'è proprio quella cosa del mi fa piacere capire come lavorano i colleghi chi fa cosa se mi puoi spiegare qual è la tua esperienza secondo te magari anche chiedere con chi dovrei parlare se conosci qualcuno che ha una buona reputazione o delle buone competenze che magari mi può dare dei consigli e quindi massima tranquillità ricordatevi che fare networking è un obiettivo per tutti non soltanto per voi per cui va sempre bene anche se se siete il junior a un certo punto non lo sarete più quindi è un investimento comunque per tutti in in vari momenti ok? allora Luca chiede mi sto laureando in economia quindi triennale è meglio continuare con la magistrale o fare un master primo livello in Bocconi ora non voglio dare risposte in un settore che non conosco Luca io sono ingegnere ho una laurea del periodo di Flintstone ingegneria elettrotecnica a fine anni 90 ti consiglio di guardare in dettaglio i canali di Marco Lecchi e Andrea Zanon che sono proprio specificatamente Marco Lecchi si è laureato da poco alla Bocconi Andrea Zanon e alla Ca' Foscari ha tantissima esperienza e proprio su su tutta la parte economia loro sicuramente sono persone che possono darti tutte le indicazioni nei loro canali troverai molte risposte a riguardo quello che ti consiglio è in generale per te ma per chiunque assicurati di fare scelte che sono basate sul mondo del lavoro e non sul mondo accademico mi spiego era uscito come argomento credo qualche live fa e mi sono reso conto che non è banale come appunto no c'era qualcuno di voi che se ben ricordo sta studiando filosofia e la domanda perché lo fai ah no ma perché quello che so fare è bene ecco ricordatevi l'università non è l'estensione del liceo ma è l'anticamera del mondo lavorativo quindi smettete di pensare da studenti e pensate da lavoratori il mio slogan è voi non siete studenti che si stanno laureando ma siete professionisti che si stanno formando ok detto questo te lo dico per per darti l'input qualunque sia la tua decisione assicurati che sia basata su dati che hanno a che fare col mondo del lavoro cioè non parlare con gli studenti su quale sia la cosa migliore parla con chi sta già nel mondo del lavoro chi ha fatto determinati percorsi perché molto probabilmente i tuoi compagni di corso ne sanno quanto te quindi confrontati con chi è nel mondo del lavoro magari chi ha fatto un master di primo livello in Bocconi via dicendo e cerca di capire quali sono i vantaggi le opportunità come sempre io ti consiglio anche di esplorare nell'opzione estero perché comunque è un boost incredibile come diciamo prima per la carriera per il mindset per le competenze e per tanti per tanti aspetti quindi approfondisci però con quel lato la risposta l'uno o l'altro non è il mio settore quindi non voglio dire non voglio dire sciocchezze allora bellissima domanda di Marco mi chiedo quanto serva la laurea sono un project manager e prendo 1600 euro invece un amico che fa il gelato fa 6000 euro ok qua però apriamo un capitolo infinito non so cosa intendi per 6000 euro cioè è un imprenditore ha il suo bar lavora nel bar di famiglia via dicendo sono bisogna considerare tantissimi fattori e anche lì dovete calcolare la traiettoria no? perché 6000 euro per fare i gelati sono tantini poi bisogna vedere magari fattura 6000 euro e ne ha 4000 di costi non lo so nei tuoi 1600 ci sono dietro anche il fondo pensione l'assicurazione e tante altre cosucce domani il tuo amico si rompe il braccio e non può fare il gelato passa a zero tu domani ti rompi il braccio non succede niente perché c'è tutto quanto alla previdenza insomma una serie di settori e poi anche lì sì probabilmente la scelta migliore se pensi soltanto al breve termine è finito lo studio andare in uno studio in una carrozzeria a lavorare per 600 euro perché invece di stare 5 anni a zero sì però poi vedi la traiettoria dopo 20 anni no? non voglio essere frainteso però quando nel quotidiano vi capita di vedere di pensare alle posizioni un po' più basse a livello di qualifica la retribuzione è tutto e quando vedete che in quelle posizioni ci sono persone molto più grandi di voi non non giudicate ma pensate a quali scelte sono state fatte per poi essere dopo tanti anni con quel plafon perché competenze e tutto poi al di là delle varie cose della vita per carità non mi permetto ovviamente di però è chiaro no? sì tu puoi finita il liceo metterti a fare un lavoro che ti dà subito due lire e però probabilmente dopo 20 anni saranno due lire più una lira e state là mentre se fai altre scelte avrai una certa traiettoria di carriera non è automatico per niente io dico sempre conosco persone con la laurea che fanno dei lavori assurdi però è chiaro che è una condizione né necessaria né sufficiente ma sicuramente un nice to have sotto vari aspetti però deve essere un ottimo gelato per farne 6.000 eccolo qua ciao Giuppi ricordatevi Giuseppe Giuppi è un nomade digitale vero non quelli che fanno i video a chiacchiere lui la moglie il figlio e il gatto si sono fatti prima tanti mesi in in Grecia adesso e in Portogallo sta facendo dei video molto interessanti sulla parte sulla parte nomade digitale lavorare a distanza più tutti quelli che sta facendo lato istruzione per chi vuole imparare a programmare seguitelo a due canali su youtube molto interessanti ma soprattutto mi piace molto infatti ci dobbiamo fare un altro video insieme il fatto che lui e la moglie abbiano adattato la loro realtà lavorativa per poter gestire questa cosa e quindi Giuppi è un caso reale di come anche in remoto si stia costruendo una credibilità un network professionale e tutto per andare avanti e continuare nella sua carriera adesso aveva anche accennato a vari a vari cambiamenti che sta facendo per liberare più spazi in una parte in un'altra seguite il suo canale perché c'è veramente tanto soprattutto ripeto una cosa che io ho sempre apprezzato il fatto che lui fa quello che tanti raccontano tanti inseguono lui va lo fa e ce lo racconta pure live quindi un abbraccione a Giuppi eccoci qua allora sì un caso umano sicuramente allora Manuel mi chiede ciao Maurizio che opinione hai sull'utilità del reparto RP o in generale sulla disciplina cos'è il reparto RP fammi fammi sapere cos'è il reparto RP perché probabilmente è un acronimo che io uso cioè che nella mia azienda o io ho visto dire precisamente quale può essere non mi viene in mente niente allora ah relazioni pubbliche ok perfetto relazioni pubbliche quindi il reparto relazioni pubbliche o in generale sulla disciplina allora ne parlavo l'altra volta con Alessandro Reconcini ho avuto il piacere di essere ospite sul suo canale ci siamo fatti una bella chiacchierata due mesi fa e ne parlavo perché stavo no del discorso del come entrare in azienda tutte le varie specializzazioni ovviamente le materie STEM hanno un percorso preferenziale però parlavo anche del fatto che io ho esperienza di persone con le lauree più disparate che comunque hanno seguito percorsi perché come dico sempre voi non siete il vostro titolo di studi così come non siete il vostro job title e lui mi diceva sì ma io che sono linguista cosa potrei fare in all'interno del di un'azienda ecco nelle grandi aziende soprattutto ma in realtà anche delle piccole perché una delle cose più importanti cioè le relazioni con il pubblico public relation e comunicazione sono fondamentali quando facciamo riferimento ai report andate in qualunque grande azienda chi siamo e ci sono i report annuali la nostra vision la nostra mission bla 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 tutto quanto vi scaricate questi faldoni questi 70 pagine di pdf con tutte le informazioni la storia chi siamo ecco quella roba non la scrivono i tecnici ragazzi quella roba le scrive il reparto comunicazione cioè tu dai tutte le informazioni e poi è il riparto comunicazione che le rende un pacchetto per l'esterno e lo stesso avviene per l'interno quando c'è un grande a me è capitato più volte soprattutto negli ultimi anni quando c'è un grande cambiamento in azienda un cambio di divisioni la creazione della nuova unità la soppressione di una nuova unità delle fusioni una decisione di aprire un sito di chiudere un sito di partire con un grande contratto di chiudere un grande contratto tutto ciò che è la decisione di business dietro poi deve essere trasferita come messaggio alle persone e quando parlo di persone parlo esternamente dei potenziali clienti del mondo del pubblico ma internamente ci sono migliaia di persone impattate e parlo di chi ci lavora come dipendenti come fornitori le loro famiglie le persone che direttamente o indirettamente sono coinvolte con l'esistenza dell'azienda con gli enti pubblici che sono coinvolti immaginate la creazione o la chiusura di un sito di produzione o di un ufficio importante che impatto ha in un'area a livello di popolazione di circolazione di opportunità lavorative e tutti questi aspetti ecco tutta questa parte della regola comunicazione io ho grandissima stima di quell'unità fatta bene ho una collega in gambissima se n'è andata da un annetto lei è in Turchia e noi abbiamo fatto dei progetti bellissimi insieme perché quando io avevo tutte queste novità al lato cambi contrattuali con impatto sulle persone o sulla loro operatività ma anche sulla loro vita lavorativa e porca miseria l'importanza di un team come quello di comunicazione che ti prende che ti dice cosa vuoi dire a chi lo vuoi dire qual è l'obiettivo cosa deve essere detto cosa non deve essere detto e te lo trasforma in duemila versioni di un documento che deve passare alle varie approvazioni è un ruolo fondamentale perché la parola sbagliata può avere un effetto a catena impressionante pensate quante volte finiscono sulle news su internet o sui giornali le mail le comunicazioni scritte male oppure quando ci sono proprio degli strafalcioni a livello di comunicazione dell'azienda uno la prima cosa che dice è ma quelli di comunicazione che lavorano là che capre sono quelli di public relation che capre sono è un team secondo me molto importante proprio perché se vi ricordate una delle una delle competenze che io dico sempre una delle domande che faccio quando ho degli ospiti è quali sono le competenze che sono state importanti per la tua carriera è che non ti saresti aspettato come fondamentali nel mio caso è stata una di quelle proprio la la comunicazione no? perché alla fine tutto è comunicazione tutto è interazione tutto è dal dal public speaking Raffaele Gaeto diceva la prima skill fondamentale è il public speaking che si articola in vari aspetti no? la comunicazione è una forma di public speaking scritto ma anche video comunicazione messaggi e via dicendo per cui è un'unità che io rispetto molto con cui ho lavorato molto periodicamente mi capita di lavorare molto e che ha un impatto veramente importante come sul lato aziendale e Emanuel mi chiede secondo te devono avere anche competenze manageriali di subito si studiano anche quelle beh sì 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 ragazzi ma perché attenzione è un'unità è un'unità di business cioè è un'unità di business che che ha i suoi manager se tu prendi la nostra azienda la divisione comunicazione boh non so quante decino centinaia di persone ci lavorano e lì c'è i manager i director e via dicendo io ho un'amica che si è spostata adesso in un'altra multinazionale farmaceutica responsabile della comunicazione cioè ragazzi quella è gente che siede nei board che siede nelle riunioni più importanti e ci sono team di comunicazione quindi tu hai le persone di comunicazione public relation qualunque sia il nome che hanno un manager che hanno un director e via dicendo quindi sono funzioni aziendali support function tipicamente che sono strutturate come tutte quante le altre e sono molto molto come in tutte le aziende come in tutte le funzioni lavorative veramente l'individuo ti fa la differenza ma vi assicuro che sono fondamentali cioè pensate come sono come sono veramente studiati l'immagine cioè ora non voglio spaventarvi ma i powerpoint i famosi powerpoint non è che tu vai e fai il powerpoint soprattutto se sono powerpoint che vengono utilizzati in certi contesti questo è il formato questo è lo spazio questo è il tipo di font questo è il size questa è la distribuzione questo è il come devono essere le immagini queste sono le immagini dell'azienda che puoi utilizzare questo è quello che devi scrivere questi sono i livelli di classificazione di segretezza questo è quando c'hai un diagramma devi utilizzare questo formato con questi caratteri questi è quando parli cioè è tutto molto strutturato è in positivo e negativo non è che tu ti fai cioè se stai facendo il powerpoint a livello operativo perché col collega devi andare metè però poi quando devi strutturarlo ma anche i colori devono essere quelli aziendali devono essere non è banale per cui tutta quella parte è molto strutturata è molto importante vi ripeto prendete di qualunque grande azienda i loro report con le strategie la parte di appunto sostenability i vari commitment pluriennali e vedete che se l'azienda è seria sono un capolavoro di comunicazione e quei team sono dietro questo se fosse l'ingegnere a scrivere la la visione strategica per la parte di impatto ambientale sostenibilità e via dicendo immaginate solo che disastro ne uscirebbe a livello comunicativo per cui team molto molto importanti che devono fare attenzione che la comunicazione sia coerente quello che è stato detto oggi rispetto a quello che è stato detto gli anni precedenti le varie implicazioni no no è veramente una cosa a me cioè lo apprezzo come ripeto lavoro moltissimo con i colleghi della comunicazione proprio dei cari amici che se ne occupano pensate soltanto a un lancio di un nuovo prodotto oppure loro sono tra i primissimi che vengono contattati quando c'è un problema cioè quando c'è un problema proprio di quelli che finisce nelle nelle news no di uno stabilimento che ha avuto un incidente oppure di uno scandalo di un certo tipo e tutto il team comunicazione è il primo è proprio la barriera attorno all'azienda pensate nei vari film americani no che c'è il responsabile della comunicazione che deve tamponare che dà le indicazioni che accompagna sempre il presidente ma è lo stesso se voi vedete quando i politici vanno in televisione anche in Italia la persona che si siede alle loro spalle più vicino è il portavoce è la persona che sussurra nell'orecchio ora devi rispondere questo oppure se c'è un dato specifico è la persona che ti dice questo questo non non cioè fateci caso io per vari motivi conosco le dinamiche però quando ci sono i dibattiti e tutto quelli che stanno dietro la clac che si portano è proprio lo staff e lo staff di comunicazione è quello che sta più vicino perché indirizzano e correggono il tiro su certe su certe cose quindi team assolutamente fondamentale ok perfetto come dicevo prima purtroppo mi sono perso le domande iniziali di Samuele mi spiace però prendo spunto da un un post che aveva messo nel nel gruppo telegram c'è questo mini video dove si parla del del solito discorso del se non sei felice è il tuo lavoro cambialo cambia la situazione e tutto e era messo in maniera un po' estrema perché diceva se se sei nella situazione del non vedo l'ora che arrivi venerdì oppure oh che brutto domani è lunedì allora non va bene devi cambiare il tuo lavoro tu devi stare lì ah che bello domani è lunedì così torno al lavoro o al progetto ora c'eravamo un attimo confrontati su questi su questo argomento e la mia idea è un attimo più più distaccata cioè nel senso che assolutamente vero devi essere in un contesto stimolante e ci sta cioè se sei in un'azienda tossica dove le relazioni sono tossiche dove le cose non funzionano è proprio contro il tuo valore se sei vegano difficilmente potrai lavorare alla fiorucci a fare i salami se sei un pacifista difficilmente ti troverai bene a lavorare in un'azienda che produce sistemi d'arma e via dicendo no però tolti questi casi estremi il discorso del essere felice del lavoro andare al lavoro è cioè tolta la parte tossica su cui sono assolutamente d'accordo e io lo dico sempre per primo non dovete tollerare aziende o contesti che hanno culture tossiche che vi danneggiano e vi abbattono a livello di autostima e tutto quanto quello è un discorso però in generale non voglio avere un approccio troppo disincantato però ragazzi il lavoro è un lavoro non voglio iperbanalizzare da serie bisogna portare a casa la pagnotta però il lavoro è un lavoro cioè non aspettare è assolutamente immaturo e irrealista credere che lavorerete x anni e ogni giorno queste cazzate del se fai il lavoro che ti piace non lavori un giorno della tua vita questa è gente che vi deve vendere la peggio roba a livello di corsi di multilevel marketing di lasciate stare lasciate stare no non esiste quelle sono parole per finalizzate ad altro il lavoro è un lavoro a un certo punto siete degli adulti che visto che non siamo più nella situazione in cui se volete mangiare dovete andare o a caccia o a raccogliere la frutta o a coltivarvi le cose ma delegate a qualcun altro e grazie al denaro voi fate qualcos'altro quelli fanno qualcos'altro e voi vi fate uno scambio di merci e valori però il lavoro è il lavoro dove il lavoro può essere da imprenditore da dipendente da qualunque cosa volete voi però cioè non pensate che debba essere sempre i che bello i che figo sto facendo la cosa più bella devo essere contento sempre con questi unicorni tutti allegri e si ragazzi life is unfair quindi ci saranno periodi in cui non vi va periodi però dovete sia portare a casa la pagnotta sia costruire il vostro futuro a livello finanziario sia avere una progettualità sia acquisire skill che vi renderanno più appetibile un domani è tutto per cui personalmente faccio molta attenzione a quelle cose col cavolo che io andrei da qualcuno a dire ah se se pensi grazie al cielo è venerdì cambia lavoro ma ma no ma soprattutto perché poi questa persona diceva devi essere devi pensare grazie al cielo è domenica sera così domani torna al lavoro no allora la devi veramente andare da uno bravo se 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 è il lavoro la parte gratificante della tua vita cioè deve essere gratificante ma probabilmente dovresti avere una vita che anche in assenza di lavoro sei felicissimo per quello che fai per le relazioni che c'hai e via dicendo per cui su quello io starei molto 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 attento a non inseguire queste queste idee del lavoro deve essere figo walt disney e via dicendo ok allora ecco qua c'è una domanda di Marco Marco mi chiede quando lei lavorava a Zurigo è vero che prende di più ma il costo della vita è più alto gli unici che guadagnano bene sono i frontalieri allora Marco ah dammi del tu sono vecchio ma non così tanto no sì sono tanto vecchio poi io lavoravo a Basilea non a Zurigo allora no non è assolutamente vero non è non è frontaliera il frontaliera la combinazione finale e perché il io lavoravo a Basilea chi lavora in Svizzera da Svizzero a mio avviso fa una vita migliore perché perché ho tanti colleghi attenzione Basilea è proprio sul confine mentre Zurigo è bello interno per cui non fa il frontaliere a Zurigo a meno che non ti vuoi fare tante tante ore di macchina o di treno al giorno per esempio Basilea è sul confine con la Francia e con la Germania e tantissima gente fa il frontaliere e tutto perché poi ci sono le nazioni hanno degli accordi entro tot chilometri paghi le tasse in Svizzera le case la costan di meno pro e contro io conoscevo gente che degli inglesi che dopo tantissimi anni a Basilea erano andati in Francia perché le case costavano meno della metà dopo sei mesi erano scappati a gambe elevate e tornati in Svizzera perché tipo dopo quattro mesi ancora non erano riusciti a fare la conversione della patente perché venivano rimbalzati da un ufficio all'altro e via dicendo e no la Svizzera non è a mio avviso da usare come frontaliere che vai là lavori e torni e stai in Italia a mio avviso se devi fare l'esperienza la devi fare seriamente spostandoti vivendo tutte le dinamiche tutte le cose positive e negative dalla parte sanitaria ti paghi l'assicurazione sanitaria però poi provi un servizio sanitario ineccepibile la parte scolastica se hai famiglia e via dicendo no non è assolutamente anche perché se fai il frontaliere dall'Italia si guadagni più che lavorando a Como ma di che stiamo parlando che progetto età di carriera hai cioè se devi fare il commesso al negozio allora è meglio se lo fai a Chiasso e guadagni 2500 invece che farlo a Como e guadagni 1500 e però poi finisce lì no? se invece parliamo di carriera quindi tutte le cose sviluppo network competenze papapapapo consiglio fortemente di muoversi in Svizzera per andare in Svizzera e non per stare con un piede qua e un piede là non ha assolutamente assolutamente senso e allora ecco bella domanda, questa di… allora aspetta, rispondo a Chakra perché dice sto per consigliare una laurea magistrale in ambito economico e sono incuriosito dall'ambito strategy, ne ho parlato inizio live, non so se c'eri sulla parte strategy, rivedila, tanto la ricarico questa sera, molto interessante, nei vari livelli ovviamente si fanno, io non ho mai lavorato direttamente anche se adesso il mio job title è Head of Operational Strategy and Implementation, però come accennavo sono vari passaggi per a seconda del tipo di business che copri. Volevo invece rispondere a questa domanda di Samuele, dice ma oltre alla Svizzera quali altri paesi europei sono ottimi dal punto di vista costa vita lavoro? Allora, la Svizzera è ineguagliabile a livello economico per due o tre motivi. All'interno del continente europeo è un'isola felice. In Svizzera tu guadagni quanto e più di quello che guadagni se vai a Dubai con la piccola differenza che sei in Europa, non hai tutte le costrizioni che ci sono lì, c'è un sistema pensionistico che lì non c'è, c'è un sistema di welfare che lì non c'è, c'è una progettualità pensionistica che lì non c'è e via dicendo. C'è un tempo del cavolo che lì non c'è anche e via dicendo. Ci arrivi in un'ora invece che in cinque ore ci puoi guidare o andare in treno invece che sei al centro dell'Europa e via dicendo. Ora, io ho lavorato in Italia, in Belgio, in Inghilterra e in Svizzera e ho molti contatti con persone che lavorano, perché ovviamente lavorando con colleghi in quasi tutte le nazioni europee, la Svizzera non ha nessuna nazione non che sia paragonabile ma che le sia vicini. Cioè la Svizzera stacca dalla seconda in un rapporto impressionante a livello di opportunità, se parliamo proprio di lavoro come stipendio, costo della vita, opportunità di ottimizzazione e via dicendo. Perché ricordate che non è soltanto vi pagano il triplo e spendete il doppio, quindi avete una possibilità di saving più ampia. E anche il fatto perché per come è la parte pensionistica, se voi buttate e potete buttare un sacco di soldi nel fondo pensione, praticamente vi azzerate le tasse. E questo ha un effetto a catena per il vostro futuro finanziario impressionante. Non lo trovate da quasi nessun'altra parte un meccanismo del genere. Altre nazioni, vabbè adesso l'Inghilterra ovviamente è cambiato tutto. Le nazioni più ricche con opportunità sono le DAX, che sarebbe D-A-C-H, Deutschland, Austria-CH-Svizzera, Confederazione Elvetica. Cioè le nazioni dove si parla tedesco, che sono quelle dove gira un mare di soldi. Nazioni dove stanno crescendo tantissimo perché tantissime aziende stanno investendo sono Slovenia, Ljubljana è un gioiellino. Però anche lì sì, vai a Praga perché tantissimi stanno spostando lì il business, vai in Slovenia perché tantissimi è, però gli stipendi sono bassi. Cioè quindi per quanto ci siano tantissime opportunità interessanti di lavoro, qualità della vita, nazioni giovani, con tante cose positive, però porca miseria. L'Olanda ha dei prezzi, costi della vita molto molto alti, che mettono pesantemente a repentaglio l'equilibrio stipendi, costi della vita. Spagna, manco ne parliamo, l'Inghilterra sì è una nazione importante, però l'Inghilterra ovviamente parliamo di Londra, cioè il 90% di ciò che avviene in Inghilterra lavorativamente avviene a Londra, con tutte le complicazioni che ci sono adesso. Il Belgio è una realtà interessante, piccoli lussemburgo, però sono no nicchie gestite su certe cose. La Germania sicuramente è un posto interessante da esplorare, però la Germania ha tante zone, no? Quelle dei servizi, quelle manifatturiere e via dicendo. No, a mio avviso è del motivo per cui entrare in Svizzera è di una difficoltà che non avete idea, è veramente difficile entrare in Svizzera, però ne vale la pena. Per cui all'interno del contesto europeo, proprio Svizzera. Poi ci sono altre cose, se uno vuole dare un boost, opportunità, sicuramente Stati Uniti, però per esempio io negli Stati Uniti con famiglia difficilmente ci andrei, o magari in base al settore specifico ci possono essere delle nazioni dove vengono più valorizzate determinate competenze e quindi magari può avere più senso andare perché là più aziende sono in quel settore e via dicendo. Insomma, in generale la risposta breve Samuele è Svizzera e poi tutto il resto in ordine sparso. Ovvio, se vuoi fare carriera nel senso che vuoi mettere da parte soldi non vai in Portogallo, non vai... Giuseppe, Danimarca, Svezia, Finlandia? Non ci ho mai lavorato ovviamente, conosco alcune persone e tutto, però andate su Numbeo a vedere il costo della vita e vedrete che sono nazioni dove il costo della vita è pesantissimo rispetto agli stipendi, infatti la Svizzera è piena di persone che vengono dai paesi nordici. Non perché sono attratti dal cibo. Marco, perché dico che è difficile entrare in Svizzera? Perché è difficilissimo, c'è una competizione incredibile. A parte che non essendo nella comunità europea non puoi fare come si faceva prima in Inghilterra, dici intanto vado e poi vedo quello che succede. Tu in Svizzera ci puoi stare soltanto se hai determinate condizioni. Però è proprio difficile a livello lavorativo, c'è una selezione pesantissima. Qualunque posizione mettono fuori in Svizzera, arrivano una quantità di candidati iperqualificati da tutto il mondo, proprio perché è un posto ambito da tutti. Se non ricordo male le statistiche, sapete che le nazioni mediamente hanno il 3-4% di stranieri in Italia, nelle varie nazioni che vengono, la Svizzera è double digit, ma mi sembra intorno al 20% e roba del genere. Quindi è una nazione altamente competitiva quando si parla di application per posizioni lavorative. Quindi sì, è molto 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 difficile entrare nella mia esperienza, assolutamente quella sia per la mia esperienza che per il confronto con altre persone, quella in cui è più difficile entrare. Ci sono tanti filtri all'ingresso e le aziende hanno la possibilità di chiedere il top del top, perché appunto appena mettono fuori un annuncio, sono subissate di richieste in qualunque settore. Ok? Perfetto. Allora ragazzi, sono le 10.10. Grazie mille per le domande interessantissime. Vi ricordo che per chi è interessato, noi abbiamo un gruppo Telegram dove potete segnare, c'è il link nel banner del canale. Io ho le mie attività di consulenza e videocorso che ho fatto sulla ricerca strategica del lavoro, c'è anche lì il link per vedere un attimo, perché mi sono accorto che diverse persone stanno apprezzando molto la combo, corso, consulenza, e devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto, perché sono riuscito a condensare, cioè condensare, insomma, sono sette ore di registrazione, un bel po' di informazioni su come io personalmente ho sviluppato un metodo per approcciare la ricerca del lavoro in maniera un attimo più olistica. Allora, vi ringrazio per essere rimasti collegati fino adesso, vi ricordo che se avete delle domande potete metterle tra i commenti di questo video o nel gruppo Telegram e cercherò durante la settimana nel gruppo Telegram o durante le live di rispondere a tutti quanti. Ok? Allora, grazie a tutti quanti per le domande, mi spiace Samuele che mi sono perso le domande, le recupererevo per la prossima live, cerco di capire perché si erano cancellate. Comunque, grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima volta. Ciao!